Tutto in una parola, filialmente, Papa Francesco esprime il proprio cordoglio al predecessore per la perdita dell'amato fratello e riesce a dare il senso di un rapporto inedito tra il pontefice regnante e l'emerito, inevitabilmente discusso e analizzato, semplicemente congedandosi con due avverbi, filialmente e fraternamente. Scopriamo dal testo della lettera inviata a Benedetto XVI che è stato l'anziano Papa e merito a comunicare la notizia della morte di Monsignor Georg Ratzinger a Francesco, una delicatezza che testimonia la saldezza di un rapporto autentico, non formale in cui la vicinanza spirituale rimane il dato più evidente in grado di superare ogni possibile difficoltà o dolore. Papa Francesco, nella sua lettera, assicura preghiera per il defunto e imbocca il Signore della vita affinché introduca nella patria del cielo l'anziano Georg, concedendogli il premio per i fedeli servitori del Vangelo. Parole di conforto per il sempre più fragile Josef che solo poche settimane fa si è sottoposto ad un enorme sforzo fisico ed emotivo per raggiungere il capezzale del fratello maggiore. I funerali di Monsignor Georg Ratzinger saranno celebrati mercoledì 8 luglio alle 10 nel Duomo di Regensburg.